Oggi con il selva! Ciao a tutti, noi siamo in selva, io sono Gino, Tommy, facciamo post black metal, suoniamo da 5 anni, gran parte della nostra roba l'abbiamo scritta proprio qua dentro, se tutto va bene tra un annetto torniamo a suonare, ci becchiamo in giro! Grazie a tutti! Grazie a tutti!